Tre discariche abusive sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri nelle campagne intorno a Gela, in particolare nella zona di Piano Mendola, e per il proprietario dei terreni è scattata anche la denuncia a piede libero. Durante il controllo dell'area, gli investigatori della stazione dell'arma di Gela, insieme ai componenti del Centro Anticrimine Natura Forestali di Agrigento, hanno individuato tre siti in particolare. Si trattava di aree che hanno attirato l'attenzione degli investigatori dopo un controllo del nucleo elicotteri dei carabinieri di Palermo, in quanto si trattava di terrapieni dove erano stati abbandonati rifiuti speciali pericolosi. Una volta che i carabinieri hanno deciso di controllare le zone in questione, si sono trovati davanti a materiale di vario genere, rifiuti in cemento ammianto, altri bituminosi e plastici, scarti di lavorazione edilizia, apparecchiature elettroniche, pedane in legno e rifiuti urbani non differenziati. Inoltre è stato anche scoperto un capannone adibito all'allevamento di cavalli. Gli animali sono stati controllati dai militari insieme ai componenti del servizio veterinario del comune di Gela e dagli accertamenti è emerso che i cavalli erano privi dei codici aziendali. In totale le tre aree finite al centro dell'indagine coprono una superficie complessiva di oltre 700 metri quadri e come detto sono state tutte sequestrate insieme all'allevamento.